ciao amici ogni anno avete un appuntamento puntuale con il mal di gola e non vi dà tregua ecco qualche veloce consiglio andiamo di estintore ma no forchetta coltello e tazza sono gli strumenti del mestiere vediamo allora insieme cosa mangiare e bere quando la gola è in fiamme se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi gola in fiamme è sinonimo di bruciore e difficoltà a deglutire che fare allora vediamo subito 1 limitare l'assunzione di caffè perché lo bevo caldo e brucia la gola no lo sapevate che il suo effetto diuretico abbassa i livelli di idratazione e questo favorisce il bruciore alla gola 2 evitare i cibi piccanti mica possiamo aggiungere fuoco al fuoco vi pare 3 non mangiare cibi grassi sono difficili da digerire e impiegano molte energie da parte dell'organismo che invece deve spegnere il fuoco del mal di gola 4 niente alcol o fumo magari la volta buona per smettere di fumare chi lo sa 5 latticini meglio evitarli soprattutto se si assumono anche gli antibiotici per non disturbare ulteriormente l'intestino 6 via libera a tisane e infusi leniscono il dolore e portano via l'infiammazione gli ingredienti segreti quelli con proprietà anti infiammatorie ovviamente zenzero curcuma con miele di eucalipto e succo di limone 7 gargarismi l'acqua tiepida con un po di sale o bicarbonato aiuta ad alleviare dolore e fastidio bene amici sono rimedi semplici ma adesso è chiaro cosa mangiare e cosa non mangiare per combattere il mal di gola commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche non mi sono dimenticata il regalino vi aspetta scaricate la lista dei miei consigli per alleviare il mal di gola vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali ciao